Per quanto mi riguarda non sono sulla posizione di sfuduciare De Stefano, siccome con il presidente De Stefano io sono stato tra i promotori alla sua candidatura alla presidenza, tra quelli che ha fatto la battaglia in seno a quell'assemblea e con un programma ben definito, benché approvamo il bilancio della gestione precedente perché c'era indispensabilità nell'interesse generale della società di capitale pubblico, tra cui anche il comune di San Martino, io sono stato come dire, uno che ha creduto molto che ci potesse essere una svolta, sicuramente le questioni economiche, la necessità di ridurre i costi, le problematiche finanziarie che ci sono e vengono da lontano, soprattutto la gestione precedente è stata deleteria, detto questo su un programma ben definito, io ho chiesto che potessimo appoggiare De Stefano, era quello di far saltare la proposta di punti blu che aveva fatto la gestione precedente che era l'individuazione un giorno per settimana in ogni comune dove l'alto calore sarebbe andato là, tra l'altro poi dandola a dei comuni amici piuttosto che altri sarebbe stata una cosa brutta, siccome noi in Valle Caudini siamo oltre che 60 mila abitanti ma sono 40 mila utenze che servono circa 100 mila abitanti perché non è solo la Valle Caudini ma soprattutto i comuni Campoli, quelli sul Talburno e Fiatiscore che da 23 anni si servono di una struttura in Montesarchio dove il lavoro funziona bene, il servizio è ottimo, dove i cittadini hanno il loro rapporto con lo sportello dell'alta colore, contratti di stacchi, dilazioni, chiaramente sulla bollettazione che è un rapporto quotidiano che hanno la nostra popolazione e proprio nel momento in cui facciamo la città a Caudini, Montesarchio rimane la città, come dire, la sede dell'Unione dei Comuni, noi chiudiamo per 7 mila euro l'anno quella sede perché è un fitto. Il sindaco di Montesarchio avrebbe dato la disponibilità di un'altra sede di due stanze, ovviamente essendo l'alto calore servizi, una società con capitali pubblici ma di diritto privato, c'è la necessità di dover pagare qualcosa sul fitto perché altrimenti si ingamperebbe in quello che può essere un danno erariale rilevato dalla Corte dei Conti e sembrerebbe che anche su questo c'era una preclusione. Allora io dico questo, ho chiesto una riunione urgente che è imperativo che almeno lo sportello del front office di servizio ai cittadini Caudini, rimanga a Montesarchio, costi quel che costa e parliamo di qualche quisquiglio, anche di fare una sorta di colletta degli amministratori, però francamente a questo punto sarebbe una gestione negativa perché con le decine, centinaia di milioni di debiti che tiene l'alto calore, noi togliamo un servizio a 70, 80 mila, 100 mila persone per 7 mila euro l'anno, è una cosa proprio ridicola. Allora su questo se il Presidente vuole per forza mantenere il trasferimento presso i locali del Fizio che sarebbero anche, sembrerebbe poco adeguati al momento, dove si sposterebbe 7-8 chilometri a 2 chilometri sulla pentice di una montagna, quindi dando dei gravi di servizio ai cittadini, a questo punto io dico lavoriamo per una sfiducia, ma non è come dire, io non voglio sfiduciare, perché altrimenti sarebbe una cosa grave per quanto ci riguarda, quindi il front office di servizio ai cittadini deve rimanere assolutamente a Montesarchio, poi il servizio tecnico, a noi ci fa piacere che i tecnici che lavorano sul territorio possano avere una maggiore agilità, facilità di raggiungimento dei luoghi gli uffici, però se devono andare perché non ci stanno spazi, lo decide all'interno l'alto calore sul rapporto di chi non lavora con la gente, con i cittadini, con la carne della Valle Caudini, quindi gentilmente questo è quello che io ho chiesto nei giornali e francamente un risultato l'abbiamo avuto, siccome il trasferimento era quasi completato con il traslogo dei mezzi, hanno sospeso lasciando una scrivania e qualche impiegato e hanno convocato questa riunione, quindi ritengo, al di là, ripeto, che il Presidente sia stato anche indicato da me e sostenuto da me, ma quando si devono fare le battaglie negli interessi di questo territorio, già siamo tagliati fuori da Avellino per mezzo della strada, o togliamo pure il front office dell'alto calore, sembra proprio una cosa che non ha nessuna logica, né di efficienza, né di economicità, né di servizio, questo è tutto.